Ciao a tutti, oggi prepareremo la bavarese al mandarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono panna fresca messa 45 minuti in congelatore, zucchero, mandarini, sia la scorza che il succo, tuorli, latte, gelatine in fogli. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 70 g di zucchero e la scorza dei mandarini e lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10, mettere da parte, mettere nel boccale 30 g di zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, posizionare la farfalla sulle lame, mettere la panna e montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. la panna è ben montata mettiamola da parte senza lavare il boccale mettere lo zucchero e la scorza di mandarino che abbiamo precedentemente tritato, il zucco di mandarini, il latte e i tuorli ed accendiamo il bimbi per 7 minuti 90 gradi velocità 4 inserire la gelatina ben strizzata ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 3. trasferire in una ciotola coprire con pellicola trasparente e lasciare raffreddare versiamo la crema nella ciotola con la panna ed amalgamiamo delicatamente versare in stampini monoporzione e riporre in frigo per almeno 4-5 ore trascorse il tempo abbiamo ripreso la bavarese dal frigo sformare e servire bavarese al mandarino grazie e alla prossima ricetta inserire la bavarese dal frigo sformare e servire